ciao a tutti e benvenuti nel mio canale jessica asmr allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla foto copertina oggi sono qui per farvi dei suoni esclusivamente con le 8 nuove ciambelline che appunto ho comprato per voi quindi spero che vi piaccia questo video so che di solito come tipologia ciambelline e gelatine vi fanno impazzire quindi spero appunto vi piaccia come sempre nell'info box vi lascio il link della wishlist di amazon se volete farmi un regalino per supportare il canale e ovviamente avere il video dedica e niente io direi di non perderci in altre chiacchiere perdonate come sempre la mia voce o non lo so ma sono tappata quindi ottimo e spero comunque che vi piaccia questo video perché ci tengo particolarmente 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 quindi direi di non perderci in altre chiacchiere e di iniziare subito 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 con il video allora prima ciambellina che vi faccio vedere è questa qui azzurra che ha visto il video old di shane le ha già viste però appunto voleva proprio dedicare un video intero a loro solo ed esclusivamente a loro so che sicuramente Sofia sarà felicissima di questa cosa chissà se riuscirei a trovare una valida sostituta della tua ciambellina preferita questa ha un colore spaziale d'oro è meraviglioso questo azzurro poi vi faccio vedere questo al pistacchio questa bianca con la glass al cioccolato qui sopra il tapping è ancora meglio rispetto a questa qui al pistacchio non so perché forse la glass è un pochino più consistente non lo so più plasticosa perdonate eventuali rumori in sottofondo raga lo so che sono ripetitiva ve lo dico sempre ma non si sente mai nessuno mi metto io seduta alla scrivania e iniziano tutti quanti a vivere la loro vita a me perché tu puoi fare quello che vuoi ok però se ti metti sotto il mio balcone a urlare io ti sbrocco in faccia ecco come quella di sopra che spostano ininterrottamente le sedie tirano giù le serrante ogni volta che io mi metto a registrare ve lo giuro cioè non so se voi che fate ASMR non lo so vivete in una casa isolata dal mondo spero per voi e sono contenta per voi ma qui non lo è ma neanche un bricio non è solamente ad agosto ad agosto raga avrei dovuto registrare tipo 2000 video per potermeli programmare per tutto l'anno vabbè spero comunque che vi piacciono raga e che vi piaccia il fatto che io sia così presente ultimamente perché aiuto scusa non vorrei magari essere troppo presente cioè magari non vi piace questa cosa io sono un sacco felice perché praticamente escono video ogni giorno o ogni massimo due o tre giorni quindi spero vi piaccia questa cosa poi vi faccio vedere quelle rosa che sono tre questa è la prima le faccio vedere anche da vicino così riuscite a vedere meglio i dettagli perché sono tutte molto particolari e originali io non l'ho mai vista da nessuna parte queste ciambelline quindi le ho prese apposta infatti se vedete sono anche diverse da quelle che ho inserito i due set che ho inserito nella wishlist proprio perché non volevo averne centomila tutto uguali quindi quelle della wishlist sono già diverse tra loro e sono diverse anche da tutte queste che ho io però volevo proprio fare un ordine con tantissime ciambelline non vi nego che ne vorrete le altre sicuramente ne prenderò altre però per il momento sono un sacco felice di queste di queste poi c'è questa che è molto semplice in realtà ciambelline classica con gli zuccherini rosa purtroppo di queste mi sa che viola non c'era altrimenti l'avrei presa viola però vabbè ci accontentiamo lo stesso è quasi scoppiettante l'effetto non so se ve l'ho detto a inizio video ma sono tutte a calamita non so a quante di voi possa interessare però spesso mi chiedete ma sono calamite ma ce l'hanno ma non ce l'hanno queste qua ce l'hanno tutte a me non cambia niente tanto a squisciarle si possono squisciare lo stesso questa qui rosa con il ciuffo di panna e la caramellina a forma di cuore sembra la fracola zuccherata 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 con il ç a a a a a io a a a Ma e ora passiamo alle ultime due che sono le mie preferite ovvero questa qui totalmente bianca con tutta la glazza al cioccolato e queste perline è appunto la stecca di cioccolato che raga ha un vago odore di cioccolato proprio sentite il tapping è spaziale sia in modo così fast che slow fatemi sapere sotto nei commenti se voi come tipologia preferite il tapping quello veloce o quello lento io entrambi in realtà dipende tipo su questa giombellina entrambi mi fanno impazzire vi giuro questa giombellina mi piace troppo 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 e passiamo all'ultima ma non per importanza perché appunto è la mia preferita insieme a questa bianca che vi ho fatto vedere ovvero questa viola ovviamente non potevo non prendere una giombellina viola perché tra tutte quelle che ho non ce n'era una viola e quindi ho detto prendiamo questa molto particolare con tutti gli zuccherini colorati e il ciuffo di panna come sempre anche questa appunto è anche questa appunto a calamita tra l'altro viola pure qua dietro adoro e niente queste erano tutte le otto giombelline nuove un video interamente dedicato a loro spero che vi sia piaciuto fatemelo sapere sotto con un like un commentino ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video io vi mando tantissimi miei capagioni vi auguro una buona e stupenda notte e ci vediamo alla prossima buonanotte 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 Grazie a tutti.